Un gruppo di persone si è ritrovato ed ha capito che mettendosi insieme può realizzare diverse cose e anche a un costo totalmente diverso da quello che attualmente è sul mercato. Il nostro intento è quello di connettersi a internet e di creare una rete tramite una serie di antenne messe sopra i palazzi di ciascuno di noi, una rete che si possa connettere ad internet e possa comprare come un gruppo di acquisto all'ingrosso della banda larga e quindi di fare delle economie di scala che ci consentono di abbassare i costi che normalmente invece vengono dati al singolo utente. Quindi più siamo, più riusciamo ad abbassare i costi di questa connessione. Sembrerà strano perché oggi nessuno l'ha mai provato, l'ha mai fatto se non in altri settori ma nella connessione ad internet e nella telefonia questa è la prima volta che qualcuno lo fa. Oggi siamo un gruppo di persone in vari quartieri di Roma. Ogni gruppo si attiva per portare altre persone e questo naturalmente consente di poter mettere quanto prima possibile tutte le connessioni, tutte le antenne che si connettono le une alle altre. Il nostro obiettivo è quello di fare un'unica rete a livello romano in tutti i quartieri di Roma che si coniuga a quella che stiamo costruendo anche a Cerveteri e Ladispoli, quindi sul litorale. Pensate solamente al fatto che io che vado al mare, alla Dispoli, posso connettermi nello stabilimento balneare con il mio smartphone, con il mio abbonamento alla connessione ad internet che ho a casa. In questo senso noi possiamo attivare tutta una serie di servizi anche per la comunità stessa che ci consentono di abbassare i costi e di far da soli invece che andare dal solito monopolista di Stato. Naturalmente in questo esperimento che noi facciamo a Roma siamo collegati in una rete in tutta Italia e questo consente di poter replicare in qualsiasi momento, quando c'è un gruppo di persone che si radunano per costruire questo tipo di rete distribuita per la connessione ad internet e la telefonia a basso costo, noi possiamo intervenire e fare addirittura una rete federata di reti distribuite che sono in tutta Italia e quindi addirittura anche andare in vacanza, che so, in Sicilia col nostro abbonamento che io ho a Roma o nel Friuli o in un'altra parte d'Italia.